Bentrovati alla seconda parte del video tutorial dedicato alla grafica essenziale di After Effects. Nella scorsa lezione avevamo creato un semplicissimo sottopancia animato. In questa lezione vedremo come importare questo sottopancia direttamente dentro ad Adobe Premiere. Vedremo anche tra l'altro come permettere al montatore che utilizzerà Premiere di modificare alcuni elementi di questa grafica. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi nessun tutorial di quelli programmati nelle prossime settimane. Venite a trovarmi anche sul mio sito internet www.fabioambrosi.it e perché no dai mettete un like alla mia pagina Facebook se volete chiaramente restare in contatto e se volete essere aggiornati anche sui prossimi articoli che usciranno. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere. Avevamo visto come animare una maschera per creare l'animazione della linea orizzontale. Vi avevo detto che chiaramente la scritta nome e cognome qualifica sono scritte temporanee che chiaramente il montatore poi modificherà inserendo il nome e cognome reali della persona che si vuole sottopanciare e la qualifica della persona che si vuole sottopanciare. Come si fa a creare però una grafica essenziale? Io potrei esportare questa grafica come ad esempio un MOV animation e passarla al montatore. Il montatore può già metterlo nel proprio progetto Premiere ma il montatore si troverà davanti alla scritta che noi gli abbiamo imposto. Quindi nome e cognome qualifica. Il montatore poi ci manda indietro questa grafica e ti dice vabbè ho capito ma il mio intervistato non si chiama così. Voglio poter scegliere di scrivere quello che voglio all'interno di questo sottopancia. Si utilizza per fare questo una nuova funzione introdotta da Adobe nelle ultime release di After Effects e Premiere chiamata grafica essenziale. O motion graphic se preferite. Che cosa è? Di che cosa stiamo parlando? Una volta creata la nostra grafica all'interno di After Effects quello che noi dobbiamo andare a fare è scegliere nel menu finestra un pannello particolare che si chiama grafica essenziale. Clicchiamo sopra appunto alla scritta grafica essenziale come potete vedere magicamente si aprirà questo nuovo pannello nuovo perché diciamo che è stato introdotto un po' un po' di recente. Grazie a questo pannello noi potremo decidere quali attributi della grafica che abbiamo appena creato il montatore video potrà modificare in Premiere. Ad esempio come abbiamo detto il montatore dovrà poter scegliere di digitare il nome e cognome che preferisce quindi noi dobbiamo creare in questo pannello un'opzione un campo che poi spediremo direttamente in Premiere in cui il montatore può scrivere il nome e il cognome della persona intervistata. Fare questa operazione è molto semplice è sufficiente cliccare sulla linguettina che appare a fianco al livello in cui vogliamo andare ad individuare l'attributo da modificare ad esempio nome e cognome clicchiamo sopra la freccettina e se fate caso in tutti i livelli che contengono del testo troverete sempre un nodo chiamato testo. Clicchiamo ancora sulla linguetta a fianco al nome del nodo testo e come potete vedere vengono espansi altri attributi un attributo in particolar modo dobbiamo andare a prendere per permettere poi al montatore di modificare il testo in Premiere ed è l'attributo testo sorgente. In altre parole questo attributo del nodo testo del livello nome e cognome contiene le lettere che compongono la scritta nome e cognome modificando questo attributo modificheremo anche la scritta nome e cognome. Quindi per poter passare questo attributo al nostro montatore Premiere dovremo cliccare col tasto sinistro del mouse sopra la scritta testo sorgente e trascinarla all'interno di questo quadrato del pannello grafica essenziale. Rilasciando il tasto sinistro del mouse vedrete che sostanzialmente verrà creato un campo chiamato appunto testo sorgente perché questo è il nome dell'attributo che stiamo spedendo a Premiere e questo sostanzialmente è il contenuto dell'attributo nome e cognome. In questo caso la scritta nome e cognome. La prova del 9 è data dal fatto che se io modifico questa scritta invece che nome e cognome metto Fabio Ambrosi e clicco fuori con il mouse vedrete che automaticamente cambia anche la scritta nome e cognome all'interno del mio progetto. In altre parole semplificando molto questo è l'attributo che io spedirò al Premiere e che poi potrò modificare ulteriormente in Premiere. Ma non solo, il montatore Premiere che dovrà inserire questo sottopancia magari vuole cambiare anche la scritta qualifica e mettere la qualifica della persona intervistata. Il procedimento è identico, clicchiamo sopra il livello che contiene la scritta qualifica, espandiamolo, cerchiamo il nodo chiamato testo, ancora una volta espandiamolo, individuiamo l'attributo testo sorgente, trasciniamolo dentro al nostro pannello di grafica essenziale, rilasciamo e come potete vedere viene inserito un secondo attributo chiamato sempre testo sorgente ma questa volta qualifica. È chiaro che bisogna essere ordinati come dico sempre io, quindi andiamo a fare un po' di ordine. Questo primo attributo si riferisce a quello che sarà il nome e cognome del nostro ospite. Quindi noi questo attributo lo andremo a chiamare come per esempio nome e cognome. Come potete immaginare questo è semplicemente un'etichetta che ci aiuterà quando poi saremo in Premiere a capire quale parametro andiamo a modificare nella nostra grafica. Allo stesso modo la qualifica, che adesso vado a cambiare per esempio in Editor, la qualifica è bene che venga individuata facilmente in Premiere. Quindi anche questo attributo lo chiamerò qualifica. In questo modo, lo ripeto, in Premiere potrò andare a capire immediatamente quale scritta vado a modificare nella grafica essenziale. Ma mi spingo oltre. Ipotizziamo che vogliamo permettere al montatore Premiere di modificare anche il colore di questa linea che in questo momento è arancione. Come devo fare? Bene, per permettere di modificare il colore della linea che abbiamo creato dentro a Premiere dovrò andare a cercare l'attributo dentro al livello della linea che contiene l'informazione del colore. Come si fa? Esattamente come abbiamo fatto per il testo. Innanzitutto lavoreremo sul livello linea. Ok? Quindi lo andiamo ad espandere e vediamo quali attributi abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione un nodo che si chiama contenuto, un nodo che si chiama maschera e un nodo che si chiama trasformazione. L'informazione che stiamo cercando si trova dentro al nodo contenuto. Se io lo vado ad espandere infatti trovo la forma, la forma geometrica che abbiamo creato, in questo caso la linea. Vado ad espandere ancora una volta il nome del nodo forma 1 e tra i vari attributi troverò il colore della mia linea che ho creato. Quindi per poter permettere al montatore che lavora in Premiere di modificare il colore della linea, cosa dovrò fare secondo voi? Semplice, basta che io trascini l'attributo colore dentro al pannello della grafica essenziale. Come potete vedere questa volta non mi ha inserito chiaramente un campo di testo, mi ha inserito la possibilità di scegliere il colore. E qui ho anche un'etichetta chiamata colore, ma posso dare il nome che voglio, per esempio colore della linea. Ok? Clicco fuori e mi ritrovo l'attributo colore della linea. Modificando questo colore modificherò direttamente il colore della linea. Ok? Come faccio a salvare questa grafica essenziale e a inviarla a Premiere? Innanzitutto dobbiamo essere ordinati, quindi diamo un nome, per esempio sotto pancia. Poi dobbiamo chiederci quale composizione vogliamo spedire a Premiere? Chiaramente qui è semplice, abbiamo creato una sola composizione, quindi noi chiaramente sceglieremo la composizione sotto pancia. Ma se avessimo creato dieci composizioni, in questo form dovremmo scegliere quale composizione utilizzare come composizione da inviare a Premiere. Ho fatto questo, quello che devo fare è, o meglio quello che posso fare, è creare, scattare una fotografia di quella che è la grafica finale. Questo ci servirà poi per avere in Premiere un riferimento grafico della grafica che stiamo esportando. Quindi clicco in aggiungi tempo copertina e semplicemente clicco sul bottone esporta modello di grafica animata. Clicco e After Effects mi domanda, è prima necessario salvare il progetto? Intendete salvare? Noi clicchiamo su salva, semplicemente mi sta dicendo che deve salvare il progetto prima di poterlo esportare. E qui mi viene fatta una domanda. Dove voglio esportare la mia grafica essenziale che voglio modificare in Premiere? Ho diverse opzioni tra cui scegliere. Posso esportare la grafica dentro la cartella di default dei modelli salvati in locale. Posso decidere io in quale cartella andare a salvare la mia grafica. Oppure posso andare a creare la mia grafica personalizzata direttamente dentro la libreria personale. Noi in questo caso utilizzeremo un'unità locale come destinazione di output. Quindi chiaramente nel mio computer vado a scegliere una cartella dove andrò a salvare il mio sottopancia. Quindi per esempio vado a creare una cartella sottopancia dove avevo inserito il progetto poc'anzi. Controllo che il nome sia corretto e clicco su salva. A questo punto posso ignorare per il momento queste altre impostazioni e posso cliccare su ok. After Effects ha in questo momento esportato questa grafica essenziale dentro al mio computer. Passiamo ora ad Adobe Premiere. Eccoci tornati in Adobe Premiere. Innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è aprire i pannelli che gestiscono la grafica. Per fare questo basta cliccare sull'area di lavoro chiamata appunto grafica. Automaticamente vengono aperti i pannelli che riguardano la grafica e possiamo importare il sottopancia che abbiamo creato in After Effects. Per importare un sottopancia creato in After Effects sulla destra vedete che c'è un pannello chiamato grafica essenziale. In basso sulla destra c'è un bottone cliccando il quale potremo scegliere il file di grafica essenziale da importare nel nostro progetto. Quindi navighiamo nella cartella in cui avevamo salvato il nostro file della grafica essenziale, lo selezioniamo, clicchiamo su apri e la nostra grafica viene importata. C'è un piccolo bug credo in Premiere 2019 perché una volta che fate questa operazione teoricamente senza troppo sforzo, se viene impostato correttamente la visualizzazione su tutti, automaticamente dovreste poter vedere il sottopancia che avete importato già in questa folder. Ho notato tuttavia che a volte non capita automaticamente, quindi fino a quando non correggeranno questo piccolo bug dovete semplicemente cambiare, chiudere il pannello di grafica essenziale, riaprirlo E eccolo qua, è comparso il file di grafica essenziale che abbiamo appena importato. È esattamente la grafica che abbiamo creato in After Effects. La trasciniamo dove vogliamo andarla ad inserire nel nostro progetto. Eccolo qua, viene automaticamente inserita. E adesso ipotizziamo che noi vogliamo fare quello per cui abbiamo creato questa grafica essenziale. Vogliamo cambiare questo sottopancia, ok? Perché magari questo non è Fabio Ambrosi, è Pinco Pallino. Come facciamo? Allora, selezioniamo la grafica che vogliamo modificare qui nella timeline. E come potete vedere, automaticamente nella tab modifica, ci ritroviamo esattamente quegli attributi che avevamo spedito da After Effects. Quindi abbiamo il campo dove potete inserire il nome e cognome, il campo dove potete inserire la qualifica e addirittura abbiamo l'attributo del colore che se vi ricordate bene avevamo impostato in After Effects. Quindi creiamo un nuovo nome, per esempio. Mi chiamerò Pinco Pallino. Via, Pinco Pallino. Non faccio l'editor, faccio il carpentiere. Carpentiere. Con questo look potrebbe anche essere. Vedete che automaticamente vengono aggiornate le scritte. Non sono più Fabio Ambrosi, ma sono Pinco Pallino e faccio il carpentiere. Fantastico. Voglio poter cambiare anche il colore di questa linea. Clicco sopra al colore della linea e la voglio fare rosso. Clicco OK e vedete che automaticamente è cambiato anche il colore della linea e l'animazione però è rimasta così come l'avevamo creata in After Effects. Oh, c'è una domanda che tutti mi pongono. Ma se io questo sottopancia non lo volessi far durare così tanto lo vorressi far durare un pochettino di meno come devo fare? Fino alla versione 2018 di Premiere l'unico modo per poter accorciare questo sottopancia era tagliarlo appena l'animazione era finita tagliare un pezzettino come potete vedere accorciarlo ed ecco qua che lavoro ecco qua, è fatto. Nella versione 2019 però c'è un'importante novità in After Effects scopriamola subito. Se noi vogliamo dare la possibilità a chi lavora in Premiere di modificare la durata della grafica appena importata dobbiamo modificare una piccola cosa all'interno del nostro progetto di grafica all'interno di After Effects. Come potete vedere la nostra animazione è composta da tre parti sostanzialmente una prima parte in cui c'è l'in ovvero l'inizio dell'animazione in cui dal nulla viene sostanzialmente creata la scritta c'è un lungo periodo in cui non accade nulla e c'è un periodo finale della nostra animazione in cui la scritta svanisce l'out noi dobbiamo dire esattamente ad After Effects qual è il blocco di animazione che corrisponde all'in qual è il blocco di animazione che deve rimanere fermo e qual è il blocco di animazione che corrisponde all'out ok? Per fare questo mi posiziono alla fine del blocco in quindi appena la mia scritta si è composta clicco sul menu composizione vado dove è scritto grafica reattiva tempo e clicco in crea intro come potete vedere automaticamente After Effects seleziona tutta l'area antistante al punto in cui si trova il mio cursore delineando quello che è l'in l'inizio della mia animazione fantastico mi posiziono adesso subito prima che inizi l'out ovvero la parte finale della mia animazione vado su composizione clicco ancora su grafica reattiva tempo e questa volta clicco in crea outro ok? bam! automaticamente è stata creata un'area di out che informa After Effects sostanzialmente che qui la mia animazione finisce attenzione però questa operazione in realtà non è andata proprio come volevo ma mi ha posizionato l'out un pochettino troppo in là nel tempo quindi la giusto modificando con il mouse le maniglie di quest'area ecco qui perfetto esportiamo nuovamente la nostra grafica essenziale esattamente come abbiamo fatto prima scegliamo dove o come sovrascriviamo senza problemi clicchiamo su ok ok e adesso possiamo tornare in Premiere per vedere gli effetti delle modifiche fatte in After Effects sostanzialmente dobbiamo rimportare la nostra clip quindi eliminiamola dalla timeline andiamo nella nostra libreria eliminiamola come potrete vedere c'è ancora il bug che me la mantiene visibile anche se è stata eliminata quindi chiudendo e riaprendo il blocco della grafica essenziale tutto viene aggiornato rimporto nuovamente la mia grafica essenziale ok richiudiamo e riapriamo il pannello della grafica essenziale perché c'è questo bug che ancora deve essere risolto e come potete vedere rimportando la clip di sottopancia questa volta io posso modificare la durata di questo sottopancia esattamente come voglio io senza perdermi l'in e senza perdermi l'out quindi se io voglio far durare questo sottopancia a pochi istanti chiaramente senza esagerare non perderò né l'in e neppure l'out posso allungarlo quanto voglio e questo grazie alla funzione di grafica reattiva introdotta in After Effects oh chiaramente il discorso creazione grafica sottopancia integrazione con Premiere è molto più complesso di come la sto facendo io questo era un tutorial introduttivo per rispondere alle numerose richieste di persone che mi chiedevano informazioni su come creare grafica in After Effects e poi modificarla in Premiere ecco spero sia servito a qualcuno se ci sono cose che mi sono dimenticato se qualcuno vuole aggiungere qualcosa commentate questo video io lo ripeto sempre non sono un grafico quindi magari posso aver detto cose inesatte o omissioni importanti quindi commentate se volete aggiungere qualcosa iscrivetevi al mio canale YouTube per restare sempre aggiornati anche sulle prossime uscite dei prossimi tutorial venite a trovarmi sul sito www.fabbiambrosi.it e perché no anche sulla mia pagina Facebook grazie mille per avermi seguito al prossimo tutorial ciao ciao